Il sostituto di Bonucci? No, lo so perché Bonucci già nel Mila, quindi diciamo l'unica cosa è che abbiamo tre difensori, perché Benatiano non è ancora disponibile e quindi abbiamo Chiellini che rientra insieme a Buffon e poi uno tra Rugani e Barzalli. Per quanto riguarda Leo, Leo ha fatto grandissime cose alla Juventus, sono stati sette anni molto importanti per lui, poi è un giocatore di Mila, dispiace non averlo contro domani perché alla fine in queste grandi partite ci devono essere sempre tutti.